scusami mi mi scampo da cagare, mi mi scampo da cagare, questo qua si collaudato ah si è chiuso, domani, ah domani, vengo a cagare domani questo qua si è il campanile, no, si è il big bang, si è venuto a Londra a parlare in Veneto con gli inglesi e a Roberta si venga a organizzare questo viaggio fantastico, mettetevi comodi perché quello che state per vedere ha dell'incredibile scontami vecchio, dove sei che posso cattare dei mudande come le tue? straight down here, just keep following me, just keep going that way ah il fa schifo, eh? il fa schifo? schifo? eh? schifo? si tutti quanti in Coeonna può fare a foto? si, perfetto ascolta, se te si in Coeonna può andare al cesso, voglio dirti che questa sei una cabina del telefono ciao, voglio dirti che te caccia vacca pota te caccia vacca pota si scusami, ma cos'è il cambio della guardia? eh, we don't know e cosa fa, arriva i carabinieri? I don't know hai 11? 11? 12? e ora su google che ho scoperto ma perché la tua corre più della mia? 8? hai freni qua perché ho scoperto che che sei? un ristorante che se c'ha una fadiga mi vuoi andare al ristorante italiano? sono italiano sono veneto vuoi andare al ristorante Fadiga Fadiga eh, Fadiga il mio trend è italiano, mi poco poco ti poco poco? a me mi piace a Mona grande ciao, devo farti una domanda senti italiano? sì palito veneto? sì, parliamo veneto palito veneto? hai messo Tony Sugamà ascolta sto quello che va in giro con le patate con il baccalà che parla veneto sì, di spagna ho visto un grande Fadiga su un termine veneto esatto dopo che c'è scritto bolognese come mai? Fadiga è quando fai fatica no? e noi abbiamo dato il nome al locale quindi Gavi Ciappà è Fadiga dal Veneto esatto però i skate tiri a Bologna ah, furbi se una, due, tre, una, quattro cosa si devo fare? ne inserta ne merli ok dimmi adesso yoga yoga se mi voglio fare yoga da ti? sì even one penny ah e questa sia scusa per domandarmi skate mi non ho monetta a fare il bonifico un po' maoccio mettete via fai yoga respira so di andare al ristorante dai due veneti vedo veneti ma ti uscito uno dei O? no no è da Asolo ma perché ti parli inglese se ti sei veneto? non sono veneto sono sardo ah ti sei da sardegna capito ti sei in prestito ora vabbè ascolta se voglio bere una ombra però facciamo il sud ti hai parlito veneto? no ma che sei qualcuno qua dentro che parla veneto? una pugliese quindi e ora che sei un sardo una pugliese ti sei bulgara e i due veneti non che sei guardi il tuo veneto ti? no come no? di Como io di Como? ma che sei un Veneto qua dentro? metti fuori i due di Como i due di Sardegna i due di Bulgaria del Veneto non cagliare nessuno devo dirte di stare tranquillo perché se Franco manca cattiamo un altro se Franco manca cattiamo un altro yes ma che sei un po' ma che sei un assiste non cattamone